Piatti poveri e gustosi, veloci da preparare. La Bortolina, o meglio Bortleina e la Spisigona hanno ricevuto una certificazione prestigiosa. Sono state insignite del marchio DECO, denominazione comunale d'origine, da una giuria di esperti a Gragnano Trebbiense. Un sigillo che certifica l'origine territoriale e degli ingredienti. L'amministrazione ha deciso di accogliere questa richiesta in quanto riteniamo che la DECO sia appunto uno strumento di promozione del territorio, di riconoscimento degli sforzi dei locali appunto per rafforzare quelle che sono le nostre tradizioni e quindi un modo per consolidare quello che è l'identità culturale anche del nostro territorio. Una torta, qual è la sua ricetta? La ricetta è a base di burro, farina, uova e zucchero. Come si fa? Si pizzica, si impasta, poi si mette nella teglia e si pizzica e quella è Spisigona. Pizzicare perché mettono pezzo per pezzo oppure c'è chi fa il pezzo intero e poi fa tutti i pizzicotti per dire chi fa così. Per quello è Spisigona. Come si realizza una burtelina? Facendo la colla con un chilo di farina, tre uova, sale e acqua quanto basta e poi si frigge nell'olio girandolo ogni volta finché la senti bella cotta, bella leggera perché la burtolina se è cotta è leggera, se non è cotta è pesante e quindi non è buona. Con che cosa si può abbinare? Con i salumi, c'è chi la mangia con i salumi, chi la mangia semplice, chi la mangia anche con lo zucchero. La frittata povera e il dolce croccante tipici del nostro territorio saranno protagonisti di due sagre a Casaligio il 5, 6, 7 settembre e a Graniano dall'11 al 14 dello stesso mese.